Quindi, vi si insegna a usare un archivio, a sviluppare e riscoprire la memoria visiva e non solo, anche a… Queste sono le fasi dell'apprendimento, ACOR, un vero e proprio metodo di apprendimento che si articola appunto in queste quattro fasi. Asta per acquisizione, li acquisisco con l'ascolto, la vista, la lettura. Una volta acquisite delle informazioni è necessario io le comprenda, siete d'accordo? Ma, c'è un ma, mi basta leggere e capire per ricordare, mi è sufficiente? Secondo voi? No, purtroppo no, magari. Cioè, posso leggere un libro di 200 pagine, mi può piacere anche molto, posso… Domani ho questo corso in Confartigianato a Montebelluna e ho tantissimi commercialisti, imprenditori, e mi dicono, ma con le nuove normative, è un caos, perché io le leggo, però non è che leggere e comprendere equivalga a ricordare, magari. Quindi queste due fasi non mi sono sufficienti, ognuno di noi cosa fa? Attraversa una terza fase, che è quella dell'organizzazione. Meglio organizzo, meglio riesco a… ricordare. Ecco, uno dice, vado a un corso di memoria e imparerò a memorizzare come un pappagallo, nulla di più sbagliato. Per assurdo, a un corso di memoria vi si insegna a memorizzare il meno possibile, perché più sono bravo ad acquisire, più sono bravo a comprendere, meglio organizzo, meno sono schiavo del ricordo, giusto? Più organizzo, meno sono schiavo del ricordo. C'è poi anche la tecnica, certo, di memoria, però è un insieme di concause. E si parte anche da qui. Quante volte non siete attenti? Quante volte, ahimè, siamo in un mondo… siamo veramente molto molto stressati, se ci pensate. Siamo sempre di corsa, ritmi intensi, si finisce tardi la sera, si rosica sempre… Cioè, il tempo in cui si riesce a dedicare il tempo per noi spesso è la notte, vero o no? Pensateci. Imparare delle tecniche per dormire meglio vi potrebbe essere d'aiuto. Pensate che quello che vi sto dicendo lo usavano, ahimè, in negativo ai tempi dei lager nazisti. Perché vi è mai successo di svegliarvi alle 5 di mattina e stare da Dio? Bene, pronti per iniziare la giornata, poi guardate l'orologio, sono le 5, tornate a dormire, alle 7 suona la sveglia e siete più rintronati di prima. Vi è mai accaduta una cosa di questo tipo? Allora, non è solo la quantità, è anche la qualità del sonno, ci sono dei cicli. Questa è una cosa, ad esempio, che uso tantissimo perché ieri sera ho finito a mezzanotte a Padova, sono scesa già ieri sera qui. Io spesso, facendo la spola tra il Veneto e Lugano, spesso in me cosa succede? Che preferisco viaggiare di notte perché di giorno c'è il caos. Però magari finisco tardi il lavoro e alle 8 di mattina ho un corso in azienda. Posso permettermi di andare a fare dei corsi in azienda rintronata? Posso? No. Cioè sì, posso però, lo faccio una volta e poi sono morta. Poi il Ticino è talmente piccolo, 300.000 abitanti, che davvero è tutto referenziale. E quindi uso tantissimo queste strategie perché riuscire ad avere i ritmi giusti di sonno, svegliarmi nel momento giusto, anche quando posso dormire poco, per me è utilissimo. Lo usavano ai tempi dei lager nazisti perché svegliavano le persone nel momento sbagliato, più volte nella notte e per più giorni di fila portandole, nel caso più eclatante, sì, alla schizofrenia. Lo usano, non è legale, però lo usano negli interrogatori molto molto stretti. Ripeto, non è legale questa cosa, però lo usano perché se ti svegliano nel momento sbagliato per più volte e per più giorni cosa succede al cervello? Va in scompenso, va in tilt. Solo che a volte ce lo scompensiamo noi perché non sappiamo quali sono questi ritmi. Tanto è una parte piccola del primo giorno del corso. Tecniche di concentrazione, di gestione degli stati emotivi, vi interessa? Perché siamo esseri umani, però a volte non possiamo permetterci che le emozioni impattino in modo negativo in quello che andiamo a fare. E a volte succede, siamo esseri umani. Però se riusciamo a essere, più noi a controllare le emozioni che esserne fagocitate, a volte può essere positivo. Ok? Prego. Ci sono delle onde del cervello, quattro tipi di onde. Si fa proprio il conto, cioè al corso vi si spiega proprio il grafico. E ci sono dei multipli da fare perché... Cosa... Sarebbe lunga da spiegare. Beta, alfa, teta e delta. Sono le quattro onde del cervello. L'elettroencefalogramma vi misura. Avete mai visto l'elettroencefalogramma che fa vedere gli impulsi? Qua sono velocissimi. Qui sono dai 16 ai 20 al secondo. Qui sono più lenti. Qui ancora più lenti. Qui da uno a quattro impulsi. Quando mi sveglio male è perché da uno a quattro impulsi sono alla sveglia. Vedete per il cervello? Boom! L'ideale è svegliarsi quando sono qui. E ci sono dei calcoli da fare. No, no, cioè... Ripeto, sarebbe lungo. Sarebbe lungo da spiegare adesso. Ci sono proprio dei calcoli da fare. Ci sono dei calcoli da fare in base a... Ok. Figurati. Ci siamo? Quindi vi si insegna dalle tecniche di concentrazione e di gestione degli stati d'animo come acquisire meglio. Come comprendere di più. Come organizzare. Organizzare è un metodo... Guardate, io lo uso tantissimo. Sono diventata dipendente da questo metodo perché io di origine sono, penso l'avrete percepito, eclettica, disorganizzata, per aria, in apparenza. E quindi ho avuto bisogno di avere che cosa? Dei metodi che mi arginassero un pochino, che mi dessero un po' più di sistematicità. E quindi è un metodo che serve per prendere appunti. Quante volte nel prendere appunti a qualche congresso, qualche conferenza, state più attenti a quello che scrivete rispetto a quello che viene detto. Per organizzare, organizzare le giornate, organizzare le riunioni. Sistema del mind mapping. Non so se l'avete mai sentito. Mind... mappe mentali? No? Nessuno? È utilissimo. L'ho insegnato. Conoscete Geberit? Chi non la conosce, io non la conoscevo. Adesso quando andate in bagno vedete Geberit ovunque. È una SPA, una multinazionale che fa bagni. È una soddisfazione perché sono in Ticino, ho fatto i corsi alle loro prime linee. E loro hanno proceduralizzato le riunioni, gli eventi, l'organizzazione in questo modo, snellendo di molto i meccanismi, i processi. Perché più chiarezza ho, più, come dicevo prima, le procedure, com'è che le chiamo al mio cliente? Antistupido. Rende l'idea, rende l'idea. L'ultima cosa, la ciliegina sulla torta è la tecnica di memoria. C'è però è in fondo. C'è, è un insieme, è una concausa, ogni cosa è sempre una concausa di più fattori. Bene, avete domande su questo? Facciamo il test allora. Vi va? Vedere quant'è memoria? Allora, ci sono dei fogli nella vostra cartellina. Io ora vi detterò delle parole che vi chiedo di scrivere una sotto l'altra nei fogli che avete in mano. Allora, io vi detterò alcune parole e vi chiedo di scriverle una sotto l'altra nei fogli che avete. Iniziamo con televisore, Scorre, Automobile, Cane, Melo, Lago, Materassi, scarpe, barba, racchetta, moglie, telefono, coccodrillo, forno, grattacielo, biglie, rete, dai l'ultima vacanza, quella che piace sempre a tutti, anche perché fra un po' c'è il ponte. Ok, vi chiedo ora una cortesia, me le potreste per favore ricontare tutte, una ad una, non a gruppi? E mi dite quante sono? Grazie. 17? Per tutti 17? Siete superstiziosi? Qualcuno sì? Se vorrei che è superstizioso ne aggiunga una, calziasi. Ok, allora vi do una bella notizia, intanto vi chiedo di girare il foglio, di coprirlo, di togliere, è inutile che le rileggiate, tanto non vale, barate con voi stessi. Ok, vi do una bellissima notizia, adesso vi guarderete come fosse un marziano, però va bene così, perché vi dico che la vostra memoria ha perfettamente, ripeto, perfettamente memorizzato queste 17 parole. Dovreste, uso non a caso il condizionale, dovreste essere ora in grado di riscriverle tutte nell'ordine esatto. Lo so, vi faccio però riflettere, la vostra mente queste parole le ha registrate non una ma tre volte, perché tre? La prima volta quando le ho? La seconda? La terza? Ricontate, il cervello è velocissimo, siamo noi che non siamo altrettanto veloci. Ora se non ricordate come sarà l'esatto elenco è normale, provate a riscrivere qua e là anche in disordine quelle che vi ricordate, rompo il ghiaccio per voi, vi dico la prima che è televisore, l'unica che sapevate in ordine. Buon lavoro, eh non la dico, senza copiare, tanto barrereste con voi stessi. Soddisfatti? No! Chi è soddisfatto? 12 è già buonissimo, 9 è anche buono, la media di solito è 6, quindi... Quanto? 6 è in media, perfetto. 5 va bene, dai. 4? 8? State dando i numeri? Ok, domanda. Quanto tempo ci mettereste a memorizzare tutte queste parole e a ricordarle, però a me non interessa ricordarle nel breve, perché quante volte succede che, adesso magari non più, però una volta quando si usavano gli elenchi del telefono, se andava l'elenco del telefono mentalmente si ripeteva il nome da andare a digitare, dall'altra stanza qualcuno vi chiamava e il numero andato. Ok? A me non interessa che la vostra memoria sia una memoria del breve periodo, perché spesso le cose sì le ricordiamo, ma le ricordiamo nell'immediato. La cosa interessante cos'è? Avere una memoria nel lungo termine. Siete d'accordo in questo? Perché sennò, quante volte ci si fa un sederino così per memorizzare qualcosa, non la si usa per un periodo, quella cosa è poi andata. Quindi diventa anche frustrante sapere che si dedica tanto tempo per avere poi nel tempo un piccolo risultato. La mia domanda è, se doveste memorizzare tutto questo elenco per ricordarlo nel tempo, senza più guardarlo, cioè per saperlo anche fra una settimana, due settimane, quanto tempo ci impieghereste? Dieci minuti sicuro? Qualcuno dice dieci minuti? Di solito la media è dai 15 ai 20 in realtà. Se in meno di quattro minuti ve le faccio memorizzare tutte, sarebbe già un buon risultato. Vi chiedo, se in meno di quattro minuti le memorizzerete tutte quante, potrebbe andare bene? Sperimentiamo, vi va?